Ciao a tutti ragazzi, stiamo passando un periodo difficile, ogni giorno arrivano sempre moltissime notizie di eventi terribili, contagi e persone che perdono i propri cari. Poi c'è anche la quarantena che ci confina al chiuso e con queste belle giornate non è facile restare in casa, però dobbiamo farlo per il bene di chi ci sta intorno e per i nostri familiari in primis. In questo periodo c'è una cosa che secondo me caratterizza particolarmente questa situazione, ossia il silenzio. Le macchine, gli aerei, i treni sono diminuiti o sono quasi totalmente assenti e aggiungerei anche che per noi campanari sentire il silenzio provenire dal lato dei campanili è il rumore più assordante che possiamo sentire. Ormai sentiamo soltanto il battere delle ore che ci ricorda che il tempo passa e raramente si sente qualche distesa o qualche concerto, ma siamo fiduciosi che il giorno in cui tutto questo finirà e potremmo tornare alla nostra vita normale, le campane suoneranno a festa quasi come a segnare una sorta di lieto fine. In attesa di quel giorno auguro a tutti i campanari e non di tenere duro e di stare bene. Fate i bravi, un saluto da Mattia.